Nuovo sequestro ai fratelli Potenza, la via sequestra beni per 20 milioni di euro agli imprenditori napoletani della ristorazione ritenuti in affari con la camorra, sigilli anche ad un noto ristorante milanese. Gemellaggio sui porti, la Campania e la Liguria insieme per potenziare la rete a Palazzo Santa Lucia, De Luca e Toti firmano l'intesa. Scuola lavoro, ma l'industria non risponde, da Casertano all'SS in Campania non decolla, l'alternata scuola lavoro, imprese pubbliche e amministrazione non collaborano abbastanza. Alla scoperta dei tesori nascosti nel museo archeologico di Sarno, per la prima volta reperti preziosi custoditi nei depositi. Napoli-Juve ora, il secondo round, dopo l'1 a 1 di ieri sera. Mercoledì al San Paolo, nuova sfida tra gli azzurri e la vecchia signora, in vista sera in campo l'Avellino, domani il Benevento e la Salernitana.